Il Centro Commerciale Edile Orazio Salvo e Figli da 50 anni rappresenta un punto di riferimento nella vendita al commercio e al dettaglio di materiale per l'edilizia. Leader nella fornitura del materiale da costruzione. Legname, acciaio, laterizi, progettazione e realizzazione di verande, gazebie e case in legno, coperture, cappotti termici, materiale per imprese a prezzi vantaggiosi, ponteggi, lamiere, termocopertura, profilati in acciaio, elettro utensili Makita. Il nostro reparto ferramenta, invece, si occupa di consulenza e progettazione di impianti di riscaldamento e elettrici di ultima generazione. Vendite di stufe e caldaia a biomassa delle migliori marche come Nordica, Extra Flame, Edil Camin, TFT e pannelli solare termici. Nel nostro reparto ceramiche troverete soluzioni eleganti e innovative per i pavimenti e rivestimenti della vostra casa e i migliori articoli per rinnovare il tuo bagno con sanitari mobili e rubinetteria delle migliori marche. E da oggi con possibilità di usufruire delle agevolazioni previste dal nuovo DPCM con l'applicazione dello sconto in fattura. Siamo a Montedoro, in Contrada Mintina. Da Orazio Salvo e Figli trovi tutto per l'edilizia. Ma proprio tutto!